Ora, un po' Stradio Master Ti prego non mi dire Che lei non è per me Non darmi un dispiacere Adesso che io l'amo Tu non la conosci Ma quando la vedrai Sarà un'altra cosa E allora capirai Quanto è bella lei Tu mamma non lo sai Quando guardo lei Io mi do gli occhi tuoi Mi perdonerai Se un giorno me ne andrò Buongiorno, buongiorno Benvenuti, benvenuti qui a Radio Master Una giornata particolare Una giornata particolare perché oggi Mi trovo in un'altra veste Oggi andiamo a parlare di un personaggio Un personaggio nato, non diciamo l'età Tanti anni fa Figlio di un imitatore E inizia proprio la sua carriera Imitando con dischi a buon mercato Non facciamo i nomi di chi imitava Pian piano, pian piano Questo giovanotto Si è espresso con il disco per l'estate Si, proprio nel 1968 Con Solo Noi Poi con Mi chiamma amor E qui vince il festival di Napoli Nel 1970 In coppia con Peppino Di Capri Lo stesso anno Debuta a Sanremo con L'amore e una colomba Molti non ricorderanno questo brano Nel 1972 Ritorna con Non voglio innamorarmi mai Un altro successo Un altro successo veramente Che ha dato modo A questo nostro personaggio Di farsi un nome Alla fine Eccoci qua C'è alla fine Uno dei tanti brani Soprattutto quella che fa Il cavallo di battaglia Di questo personaggio E' la base che stiamo ascoltando Quanto è bella lei Stiamo parlando di Gianni Nazaro Buongiorno Gianni Buongiorno Bellissima questa escursione Che hai fatto sulla mia carriera Grazie Grazie, grazie, grazie Naturalmente Parlando di Gianni Nazaro Parliamo di Napoli Allora La domanda che io pongo a Gianni Ti dico Gianni perché siamo coetane Eh Gianni Allora Da bravo napoletano Poi ci sono state anche altre cose Che tu hai fatto nella vita Come anche musical E anche teatro Come nasce Gianni Nazaro Cantante? Ma Eh Sin da ragazzino Io avevo questa Questa qualità Che mi era stata Che ho ereditato Da forse da mio padre Che pure faceva Anche lui faceva L'artista E quindi Riuscivo a cantare In un modo discreto E anche piacevole A volte Per cui Quando c'erano i balletti Dentro le case C'era stata un'epoca In cui Le persone Le comitive Di amici Si riunivano Dentro le case Spostavano il tavolo Verso il muro Mettevano le sedie Tutte quante in fila Il giradischio Il giradischio Esatto Però ad un certo punto Uno dei miei amici Andava al giradischio Lo fermava E diceva Adesso basta con i dischi Perché abbiamo una voce da vivo Straordinaria Destra e sinistra E quindi Io mi mettevo là In mezzo alla stanza E cominciavo a cantare E che cosa cantavo? Cantavo le canzoni di Morandi Perché ero Un fan di Morandi E quindi La fisermonica Il giradischio da te E chi più ne ha Più ne metta Ecco Morandi è stato Il tuo primo Idolo Il primo amore Esattamente Però sappiamo anche Che cantavi I brani di Celentano Bobby So Sì E Beatles E quello poi Poi in un secondo momento Quando facevo I dischi pirata Se li si chiamavano Così all'epoca Esatto Gianni Gianni Nazaro Nasce allora Con questi brani Di Morandi Chi è stato A lanciare Gianni Nazaro Chi ti ha conosciuto Chi ha saputo Chi ha visto la voce Chi ha sentito Ecco Dopo anni di cavetta Perché ho fatto anche Night Il classico Night Con il gruppo Con il complesso Con tutti i repertori Che ci vuole Insomma Ho fatto una cavetta Abbastanza lunga Dopo qualche 5, 6, 7 anni Di questo Sono stato Scoperto Se vogliamo Ci è stato un incontro Tra me e la mia Attuale compagna Mia moglie Nata E ci trovavamo a Bari Tutti o due Io per fare il cantante In una manifestazione Di Gianni Ravela Che si chiamava La caramella Dei successi E lei invece Era lì Come road manager Di Charles Adnavur Che era ospite Di questa Di questa manifestazione E lei ci incontrammo Nella hall Di quest'albergo Il famoso Petruzzelli No quello Il teatro Il teatro Petruzzelli Nella hall Il teatro Petruzzelli Di Bari E ci incontrammo Scambiamo Due o quattro ghiacchiere Si dava il caso Che era il mio Compreanno Il 27 di ottobre E quindi Lei fu così carina Nata Che sapendo Che era il mio Compreanno Che mi aveva appena conosciuto Che comunque Ero uno dell'ambiente Perché facevo il cantante Decise di farmi una festa A mia insaputa Dopo lo spettacolo Mi organizzò In un ristorante Di Bari Non ricordo Adesso come si chiamasse Una festa Con tanto di torta Di candela Eccetera Eccetera E' stato una bella Siete Un bell'incontro Proprio preso Per la gola Allora Gianni Anche se io Non mangio dolci Anche se non mangio dolci Allora Gianni Nazzaro Poi Rientra nel gruppo Cioè chiamiamo gruppo Rientra nel giro Con Oh me ti amma amore Non lo sai Vince il festival Con Peppino di Capri Insieme Si cantava la stessa canzone Due cantanti 1970 Allora In quel momento In quel momento In quel momento Gianni Nazzaro Particolarmente importante Quella vittoria Perché c'era mio padre Di fronte Che stava tra il pubblico E che mi applaudiva Come se fosse stato Un fan In quanto il figlio Per cui Si è venuta a creare Quella sera Questa emozione In più Diciamo Per cui si lascia immaginare Vincere davanti a mio padre Vincere davanti a mio padre Che devo dirti la verità In un primo momento Non voleva che io Facessi il mestiere Del cantante E poi dopo fu lui A darmi le prime I primi Succedimenti Esatto Le prime indicazioni Gianni Nazzaro Con il teatro Prima di ritornare Alla musica Un'altra volta Chi ti ha visto E ha detto Tu puoi fare L'attore Non ho fatto nessun provino A dirti la verità Ci sono capitato dentro Nel musical Nella commedia musicale Ho iniziato Se vogliamo Con uno Che era Il maestro In qualche modo Degli attori Di teatro Per Pino De Filippo Con lui Ho iniziato Grazie a un fatto Proprio di Relazionale Ci siamo incontrati Sempre In un albergo E abbiamo Fatto amicizia E io gli ho scambiato Tutto il mio La mia ammirazione Nei suoi confronti Lui mi ha trovato Un simpatico E mi disse Allora facciamo Una bella cosa Venimi a trovare Domani a casa Ti faccio leggere Un copione Di una cosa Che io devo mettere In scena Tra un po' E così fu Io iniziare A lavorare Con Pino De Filippo E Luigi Il figlio In questo Carolecchio Carovaccio Dell'arte Che si chiamava Le metamorfosi Di un suonatore ambulante Ah Proprio Un suonatore ambulante E qual era Lo strumento No lui era Il suonatore ambulante Era Peppino Il protagonista Ah è lui il protagonista E la comedia Si chiamava Le metamorfosi Di un suonatore ambulante Raccontava la storia Di questo Di questo mandolinista Che per sbarcare Il lunario Si travestiva In mille modi In mille modi Nel 1974 Torni a Sanremo Con un altro Bellissimo brano San modo mio San modo mio Ecco Scritta da Claudio Baglioni Si Però in effetti Si è sorpresa Dalla decisione Di questa casa discografica Di usare il pezzo Perché? Ci fu una sorpresa Non ho capito Allora Noi guardando La scritta Da Claudio Baglioni Che in effetti Si disse sorpreso Dalla decisione Della casa discografica Di usare il suo pezzo Baglioni Naturalmente Si è sorpreso Perché a Sanremo Hanno Cioè comunque Completamente Queste notizie Sono completamente fasulle Dunque Ecco Io mi trovavo Ero prodotto Dallo stesso produttore Di Claudio Esatto Parliamo di produzione artistica Il produttore artistico Di Claudio Baglioni Era Claudio Mattone E nello stesso tempo Era anche il mio produttore Quando io Quando io militavo In CBS Allora anche lì Perfortunitamente Io mi trovavo Nella sala di registrazione Sulla Lomentana Di Claudio Mattone E c'era Claudio Baglioni Che registrava Allora Claudio Mattone Disse Adesso ti presento Baglioni Perché lì lo sapeva Che a me Baglioni Mi piace più Di qualsiasi altro cantante Si Allora me lo presentò Baglioni nutriva anche Nei miei confronti Simpatia e stima E quando Mattone Chiese l'indomani A Baglioni Di dargli una canzone Per Nazaro Baglioni molto volentieri La diede Questa a modo mio E io la portai E io la portai a San Revo Tutto qua E ha fatto il suo successone Anche questo brano Si Tornando Andiamo sempre Nella tua carriera C'è un brano Che a me Mi piace molto Come tutti gli altri Che spesso A casa mia Metto di sottofondo Quando litigo con mia moglie E il brano Si intitola proprio Mi sono innamorato di mia moglie Questo è nato nel 1983 Si Hai Quando io sento questa canzone Tu hai un'espressione particolare Come uno sfogo Mi sbaglio O Dico qualche eresia No 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 È una canzone Che fa Comunque Serve a fare pace Tra marito e moglie Si E di fatto Io spesso la uso Questo Uso questo brano Che ho Diversi cd E' un brano Veramente Che a me piace Che a me piace moltissimo E anche perché E' dedicato Dedicato alla propria donna Certo Poi Vogliamo andare più avanti Nel 1987 Che cosa è successo Con quel brano Tra virgolette Perdere l'amore Che è successo? Si si Perdere l'amore Io la presentai l'anno prima Senza una etichetta Importante Cioè con un'etichetta privata Si Invece Massimo La presentò l'anno dopo Con un'etichetta Ufficiale Una delle nuove sorelle Multinazionali La Wea No si La Wea Mi sembra E Quindi Diciamo che L'autore Che è Giampiero Artegiani Me lo disse Prima di tutto Dice Io ti do questa canzone Tu fai il provino La candidi a Sanremo Se non te la prendono La canzone Io me la riprendo E la vado a proporre Ad altre persone Me lo disse Mi avvertì Ecco ci fu Punto Io Dice Va bene Mi sta bene Provai Non vedi Fatto fuori E lui Si riprese il librano E lo presentò A Gianni Morandi Morandi Disse Io te lo metto Nel mio ultimo album Ma non te lo porto A Sanremo E che Artegiani Ebbe la forza Di dire Grazie allo stesso Al signor Morandi Si Si riprese il pezzo Fino a quando Non incontrò Ranieri E lo dite a Massimo A Massimo Ne aveva già uno Di pezzo Fu difficile Convincerlo A prendere Per l'amore Quando lo convincero Fu stesso Massimo Che tra di noi C'è un'amicizia Fortissima Ci stimiamo Ci vogliamo avere Io e Massimo Ranieri Lui mi chiamò E mi disse Guarda c'è una canzone Provinata da te Molto bella E io gli disse Si la conosco Mi ho fatto il provino L'anno scorso io Fanne buon uso E lui gli ha fatto E gli ha fatto buon uso Gianni Nazaro Dopo il 1988 Che altro Che altro ha inciso Dopo il 1988 Ci siamo C'è una sosta Ci sono state manifestazioni Perché dico questo Perché siamo arrivati Ad oggi Con il tuo nuovo cd Io non sono abituato A dire l'ultimo Perché è sempre un nuovo Ci sarà sempre un altro Questo nuovo cd Si intitola L'amo Ovvero la mia vita In musica Allora In questo nuovo cd Che tu proponi Con la canzone L'amo A chi la vuoi dedicare A chi ti rivolgi Con la canzone L'amo Si Guarda Noi cantanti Abbiamo la fortuna Di fare un mestiere Che abbiamo scelto Che ci piace Ma non è detto poi Che quando si canta Una canzone Deba per forza Questa canzone Essere una cosa nostra Una cosa personale Può essere anche Un messaggio Come Mi sono innamorato Di mie moglie Per esempio Un messaggio Che uno fa A qualcuno A tantissime persone Con questo disco Io non faccio altro De questo Dedicare a tantissimi Innamorati Delle canzoni Che probabilmente Possono piacere Questo cd È già in commercio? Si Da Già da un mese Già da un mese Quanti brani Ci sono in questo cd? Guarda Ce ne sono Dunque 12 Credo 12 12 Tutto da ascoltare Un cd da ascoltare Dall'inizio Alla fine La domanda Che io ora Pongo a Gianni Nazzaro Nella Sua O di Diciamo Nella tua Carriera Discografica Qual è il pezzo Che ti ha dato Più soddisfazione? È stato proprio Quello di Claudio Paglioni A modo mio Quello ti ha dato Più soddisfazione? Si Quello invece Dove Hai venduto Più cd? Quello dove ho venduto Di più La storica Quanto è bella Lei Allora Il nostro I programmi per il futuro Di Gianni Nazzaro Guarda C'è quest'album Che da promuovere Per cui farò qualche Transgressione in televisione Con quest'album E Soffinendo I tale quali Che è quel programma Con Carlo Conte Ci stavo per arrivare Mi hai anticipato Finisce l'ultimo Di novembre Quello Si Gianni Nazzaro Quando ti vediamo A Foggia A Foggia Io spero presto Spero presto Mi faccio mandare Da Renzo Ah ti fai mandare Da Renzo Arbor Bene Allora Noi ti aspettiamo Chissà Oltre alla Diretta telefonica Possiamo avere anche Una diretta particolare Ecco Adesso noi chiudiamo Proprio con il tuo nuovo album Con la canzone L'Amo Un grazie a te Gianni Per essere stato con noi Grazie a voi L'appuntamento Alla prossima occasione Mi raccomando Quanto prima Con il tuo nuovo CD Ma adesso Andiamo a sfornare Questo L'Amo La mia vita in musica Grazie Gianni Nazzaro Ciao Grazie a voi A presto A voi tutti A risentirci Da Radio Master L'Amo Gianni Nazzaro Ricordo quando la incontrai Lo sguardo mi ha investito